Il racconto del mercoledì, in diretta dal Vaticano, una produzione Telepace e Vatican News, a cura di Eugenio Bonanata. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Siamo con Andrea Tornielli, direttore editoriale del Di Castero per la comunicazione della Santa Sede. Grazie Andrea di essere con noi oggi. Grazie, buongiorno. Allora, come ci possiamo accostare a questa ricorrenza? Secondo me è molto bello ricordare proprio l'inizio, come ci hanno mostrato queste immagini, perché il Papa, appena scelto, innanzitutto ha salutato con un buonasera e poi ha sottolineato il suo ruolo di vescovo di Roma e ricordiamo quel gesto bellissimo prima di impartire lui la benedizione sul popolo, di chiedere una preghiera del popolo sul suo vescovo. Pregate per me. Pregate per me, ma soprattutto lui ha chinato il capo di fronte al popolo che pregava per lui. Credo che sia da sottolineare questa unità che ha attraversato tutti questi undici anni tra il vescovo e il suo popolo, tra il Papa e il popolo che è rappresentato dai cattolici alla Chiesa Universale. Una novità, non eravamo abituati a questa schiettezza, questa chiarezza proprio nella richiesta che ha fatto Papa Francesco, che ha cercato poi subito il buonasera, il buon pranzo, cioè un rapporto veramente diretto. Sì, questo sicuramente. Devo dire che in lui c'è un portato anche di una teologia, di un modo di vivere la Chiesa nell'America Latina, però dal punto di vista della spontaneità di Jesse, della schiettezza, lui comunque non arriva, non spunta come un fungo, ma è qualcosa che viene da una storia. Ricordiamo che il grande cambiamento lo ha fatto già Giovanni Paolo II. Certo, ma a distanza di undici anni cosa resta, diciamo, di questo stile? Com'è cambiato lo stile di Papa Francesco anche alla luce dei cambiamenti a livello di contesto storico-sociale che stiamo vivendo? Ma io credo che lo stile non è assolutamente cambiato, anzi si è approfondito questa volontà di essere vicino alle sofferenze del mondo. Ma se dovessi dire qual è il tratto dominante di questi undici anni è certamente il cercare di mostrare un volto di Dio che è vicino, che prima di giudicarci ci abbraccia e ci dice che ci vuole bene. E l'unico scopo, credo, per cui il Papa mostra questo atteggiamento, insiste sulla misericordia, non è il buonismo, ma è un atteggiamento che ha un unico scopo, la missione. Cioè oggi il Vangelo si annuncia mostrando questo volto di Dio. Senti, dopo la pandemia è arrivata la guerra in Ucraina, poi un'altra guerra in Terra Santa, insomma questi ultimi anni sono stati veramente complessi per il pontificato. Sono stati complessi per il pontificato, sono complessi per il mondo, perché la pandemia sembrava che cosa può accadere adesso. Invece quella terza guerra mondiale a pezzi di cui aveva parlato il Papa profeticamente fin dal 2014 si sta purtroppo verificando con una corsa a riarmo folle, che il Papa ha definito folle, che è folle, e che fa sì che i soldi che potrebbero risolvere il problema della fame nel mondo con metà delle spese degli armamenti vengano invece usati per armi sempre più sofisticate che stanno mettendo a rischio l'esistenza dell'umanità. Senti, la posizione diplomatica della Santa Sede in tema di pace non è sempre facile da sostenere, da comunicare, da condividere. Negli ultimi giorni, ad esempio, abbiamo visto, sono stati dominati da questa polemica, da questa incomprensione relativamente alle parole del Papa sulla guerra in Ucraina, sulla necessità della pace, di avviare un negoziato, quindi il coraggio di avviare il negoziato, però sono state, diciamo, equivocate, questa bandiera bianca, è stata letta in una maniera particolare, ecco, come orientarsi? Innanzitutto la bandiera bianca stava nella domanda dell'intervistatore, perché la trasmissione, abbiamo saputo, aveva come tema il colore bianco, e dunque era un po', diciamo così, messa lì in maniera posticcia, perché nessuno, in questo momento, mi sembra che chieda all'Ucraina la bandiera bianca. Però le parole del Papa vanno lette con attenzione, lui si è richiamato alla possibilità di una mediazione internazionale e ha detto, non ha parlato di resa, ha detto che il negoziato non è una resa. E dal punto di vista del Papa e della Chiesa, il Papa guarda le vittime, ci sono centinaia di migliaia di morti in questa guerra, fino a quando bisogna andare avanti con questa carneficina? Questa è la domanda del Papa. La cosa che stupisce, più che le critiche, anzi, stupiscono tante critiche, è il fatto che il Papa sia l'unico leader al mondo che oggi chiede la pace e il negoziato. Sembra che le parole pace e il negoziato siano diventate parolacce, quasi, di cui ci dobbiamo vergognare. Invece ce ne dobbiamo appropriare e credo che sia molto importante che il popolo, la gente, che credo sia più vicina a questo sentimento e voglia alla pace, chieda ai propri governanti di fare di più. La diplomazia sembra morta, la creatività diplomatica spenta, non ci sono iniziative. Sembra che siamo tutti condannati all'ineluttabilità della guerra, ma una guerra fra potenze che hanno armi nucleari significa la fine del mondo. Certo. Sappiamo che la diplomazia si muove nel silenzio, nella discrezione. Cosa possiamo dire sul ruolo che la Santa Sede sta svolgendo sul fronte della guerra in Ucraina e sul fronte anche della guerra in Medio Oriente? La diplomazia della Santa Sede agisce negli spazi che gli vengono concessi, ovviamente. E purtroppo in queste due guerre gli spazi non sono tanti, perché dipende anche dalla volontà dei contendenti. Però certamente tutto quello che cerca di fare la Santa Sede è di arrivare innanzitutto a un cessato il fuoco perché tacciano le armi, un negoziato al solo fine di mettere fine alla carneficina che c'è. Questa posizione talvolta viene scambiata o per buonismo o viene definita irrealistica. Io credo che sia la posizione più realista perché l'alternativa è la fine del mondo. Senti, Papa Francesco resta molto amato dalla gente, forse più amato della Chiesa stessa, ma probabilmente è anche il Papa più criticato, più attaccato nella storia. Allora, certamente è un Papa criticatissimo, lo vediamo dal fiorire di blog, di siti, sitarelli, che molto spesso in maniera anonima, senza avere il coraggio della firma e delle proprie idee, versano veleni, odio. Il problema non è una critica, il discutere una posizione o un'altra posizione. La dialettica, diciamo. Anche nella Chiesa, non è mai stata, non ha mai avuto un pensiero unico. Il problema è lo scherno e il fatto di abituare tanti fedeli ignari che magari viaggiano sui social ad avere un atteggiamento di scherno, di presa in giro e di odio nei confronti del Papa. Perché non è che lo stanno facendo nei confronti di Francesco, lo fanno nei confronti del Papa. Però voglio anche aggiungere, permettimi velocemente, bisogna anche avere uno sguardo storico. Non è il primo Papa a essere criticato. Paolo VI fu massacrato dai suoi amici dentro la Chiesa, compresi i cardinali. Dunque, mi viene da dire, la novità oggi è il moltiplicarsi dei social, delle lette sociali che amplificano, ma le critiche non sono una novità. Pesa il fronte interno. Insomma, ricordiamo, Papa Francesco ha avviato una riforma, ma sta portando avanti una riforma delle istituzioni della Santa Sede, del Vaticano, che non è facile, che probabilmente suscita anche dei malumori. Diciamo che molti papi del Novecento hanno fatto riforme, anche radicali, della Santa Sede, delle strutture della Santa Sede, della Chiesa, della liturgia. Mi sembra di poter dire che non ce n'è nessuna che non sia stata criticata al momento in cui è stata fatta nel periodo successivo. Certo. Ogni riforma porta in sé una... Perché anche questo non è che voglio sminuire, però bisogna vedere un po' le cose, cercare di abituarsi ad avere uno sguardo sulle cose anche un po' ampio, guardare alla storia. Che non è facile, perché nella quotidianità abbiamo la testa bassa, l'immantinente, però non guardiamo quello che è stato. E una delle critiche che si avanza al Papa è quella di essere distante da Benedetto XVI, ma se andiamo a vedere c'è una continuità abbastanza netta anche sul tema delle riforme, anche la lotta agli abusi, la corruzione. La lotta agli abusi, la corruzione, il dire che la Chiesa avrebbe bisogno a volte di avere meno, di contare meno sulle strutture e sul denaro, come disse Papa Benedetto. Papa Benedetto è stato forse il primo Papa che ha portato un accento molto forte sul tema dell'ecologia. Io credo che ci sia una sintonia di fondo su alcuni temi fondamentali con una diversità di storie e di caratteri che è la bellezza della Chiesa. Perché voglio dire, dicevano lo stesso di Paolo VI nei confronti di Giovanni XXIII, di Giovanni Paolo II nei confronti di Paolo VI. Diciamo che c'è una fetta di persone o di commentatori per i quali il vero Papa Buono è sempre quello che non c'è più. Eh sì, è un sport nazionale, diciamo, quello di dire che è già pronto, i cardinali lavorano in conclave, dicono questo. Sì, allora diciamo, la teoria è che si lavora in conclave il giorno dopo delle elezioni del nuovo Papa. Però io, siccome faccio il vaticanista nel 1992, ufficialmente, ma seguivo già da prima queste cose, io ho vissuto almeno più di dieci anni della mia vita professionale, quasi quindici, a discutere del conclave durante gli anni di Giovanni Paolo II e posso testimoniare di aver visto purtroppo la morte di tanti candidati alla sua successione che sono scomparsi, ahimè, prima della morte del Papa. Dunque anche questo bisogna relativizzare. Per relativizzarlo, certo. Il tuo augurio per Papa Francesco? Il mio augurio è quello che possa far valere la sua voce profetica di pace in un mondo che di pace e di negoziato ha estremamente bisogno. Credo che il più bel regalo che potremmo fare al Papa per questi undici anni sarebbe un minimo segno di pace e di tregua nei scenari di guerra, che non sono solo Ucraina e Terra Santa purtroppo, ma ce ne sono tanti nel mondo. Intanto Papa Francesco ha completato il giro in Papamobile, Automobile Scoperta, nei vari settori in cui è suddivisa a Piazza San Pietro, lo ricordiamo, è la seconda udienza generale che si tiene, diciamo, in questo scenario primaverile, diciamo così, e ricordiamo anche che il Papa all'udienza di oggi proseguirà il ciclo sui vizi e le virtù che è iniziato nei mesi scorsi. Siamo arrivati all'undicesima catechesi di questo ciclo e dopo aver affrontato i vizi oggi si soffermerà sull'agire virtuoso. Andrea, qual è l'importanza di queste meditazioni che coincidono poi con il periodo di Quaresima? Ma sono importanti perché ci aiutano a entrare, a sviscerare in maniera molto semplice le verità di fede, ciò che crede la Chiesa. Credo che oggi sia veramente importante, in particolare in questo tempo di Quaresima, meditare sui vizi e da oggi anche sulle virtù, perché diciamo di vizi ce ne vediamo tanti, ne abbiamo noi, ne vediamo tanti intorno a noi, e c'è bisogno di capire come imparare a essere più virtuosi, la Quaresima è un tempo che ci dà generato per questo. Forse un'unica cosa che si potrebbe dire è che forse il primo atto virtuoso è quello di non guardare i vizi degli altri, ma di imparare a guardare, ad essere coscienti dei propri. Il discorso che serve impegno anche per questo percorso personale, di chiarezza di... Serve impegno e serve però anche tanta fiducia nella grazia di Dio, nel fatto che Dio ci precede, ci dona tutti gli strumenti per essere virtuosi e che noi vogliamo fare tutto da soli, sia nei vizi che nelle virtù. Certo, certo. Dunque il Papa sta raggiungendo la sua postazione in Piazza San Pietro, dove pronuncerà questa nuova catechese sull'agire virtuoso, un po' se vogliamo è una puntata diciamo così introduttiva, no? Poi affronterà le virtù. Le virtù puntualmente, sì. In questa catechesi è più in generale sulla virtù. Sulla virtù. E dunque ascolteremo le parole del Papa, vedremo se sarà lui a leggere la catechesi o se invece chiederà il supporto dei collaboratori della Segreteria di Stato, come è successo in questi giorni, durante le udienze in Vaticano. Papa Francesco ha preferito, diciamo, consegnare il discorso scritto e ancora alle prese con il raffreddore, con quindi dei piccoli problemi di voce e allora in diverse occasioni ha utilizzato questa formula di far leggere il discorso ai collaboratori della Segreteria di Stato. Ma diamo la linea a Piazza San Pietro, così ascoltiamo Papa Francesco. Andiamoci ad accogliere la Sua parola e a ricevere la Sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con la benedizione di Papa Francesco termina l'udienza generale di oggi. Anche questa volta il Papa non ha letto il testo della catechesi dedicato all'azione virtuosa, ma ha detto ancora il raffreddore, quindi chiedo al Monsignore, insomma al collaboratore della Segreteria di Stato, di occuparsi della lettura. Ma al termine dell'udienza ha parlato, ha abbraccio, ha lanciato il suo appello per la pace, ha raccontato di aver ricevuto questo Vangelo, questo Rosario di un soldato morto al fronte, non ha precisato se sarà sicuramente dell'Ucraina. Tanti giovani vanno a morire, preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra. Sì, è un appello molto toccante che il Papa ha fatto abbraccio. Si vede che sono parole che gli sgorgono dal cuore. Queste parole sono la cornice, il completamento, la chiave di lettura per leggere le cose che aveva detto, che sono state rese pubbliche dell'intervista alla TV Svizzera e che secondo me servono a spazzare il campo da tante critiche esterne e interne. Il Papa pensa alle vittime, pensa alla gente che muore, centinaia di migliaia di morti per confini che si spostano magari di un chilometro. È una domanda, la guerra è una pazzia e credo che ci sarebbe bisogno da parte di tutti di aiutare di più il successore di Pietro che parla con voce profetica in questo caso per sostenere iniziative di pace, di diplomazia, di negoziato con creatività. Invece la diplomazia sembra morta in ogni parte e questo purtroppo ci dice che il nostro mondo sta andando verso l'autodistruzione. Grazie a Dio che c'è la voce del Papa, dobbiamo pregare per lui perché continui così ad alzare la sua voce e fare sentire di più anche la nostra voce in favore della pace, del negoziato e perché cessino, cessi il rumore delle armi. Una voce solitaria, quella di Papa Francesco, nel ribadire queste cose si legano anche alla Catechesi, no? Dove ha parlato, centrata sull'agire virtuoso, insomma serve impegno per... Sì, serve impegno con un nota bene però che è molto bello in tutta la sua Catechesi perché ci ha detto che i Santi non sono persone così fuori dal mondo. Che hanno i superpoteri. Che hanno i superpoteri, ma ci dice che comunque l'atteggiamento virtuoso parte dal confidare e dall'affidarsi in Dio. Cioè parte dal non confidare nelle proprie forze, nella propria bravura, nel proprio zelo, ma nell'affidarsi e nel lasciare che la grazia di Dio agisca in noi. È un cambiamento totale di mentalità che non ci fa contare sulle nostre forze che non sono mai poi così grandi, ma ci fa contare sul fatto che se ci appoggiamo a Dio riusciamo ad avere questo sguardo di bene e virtuoso di più se non sempre nella vita. Inizia tutto da lì, non è un qualcosa che piove dal cielo, quindi l'impegno è questo, è in questa direzione. Torniamo adesso alla ricorrenza odierna, l'undicesimo anniversario dell'elezione di Papa Francesco avvenuta il 13 marzo del 2013 sull'impatto mediatico diciamo così del Vescovo di Roma. Abbiamo raccolto il commento di Monsignor Dario Edoardo Viganovici, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali, nonché presidente della Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo. Chiedo alla regia di mandare in onda questo contributo. Certamente quando si è presentato alla Regione di San Pietro 11 anni fa immediatamente eravamo ancora carichi devo dire della tensione emotiva di un evento che da secoli non si presentava più, cioè le dimissioni del Papa precedente e di questo saluto fortemente emotivo con il volo da San Pietro a Castel Gandolfo e in continuità con questa emozione una sorpresa, la sorpresa di un uomo che appunto si è presentato nella sua semplicità è il primo Papa Gesuita, è il primo Papa che viene come dice lui dalla fine del mondo ed è il primo Papa che decide di assumere il nome di Francesco, Francesco d'Assisi figherà nell'incontro con i giornalisti e dopo certamente c'è stato stupore c'è stato un cambiamento immediato insomma di percezione dal rigore dei rituali e delle prassi che si erano consolidate nei secoli allo stile di immediatezza tipico appunto di un pastore certamente l'epoca di Francesco è un'epoca anche segnata da eventi che precedentemente noi perlomeno non abbiamo mai conosciuto come ad esempio il momento della pandemia ecco certo lì Francesco è stato protagonista di alcune immagini che sono diventate iconiche nel mondo penso ad esempio Piazza San Pietro Piazza San Pietro vuota poi il colonnato del Bernini che appunto in qualche modo abbraccia l'umanità e lui da solo mentre prega durante la Via Crucis con anche diciamo tutto un gioco di atmosfere atmosferiche che hanno enfatizzato ulteriormente in quel momento per cui diciamo certo sono tante occasioni di Papa Francesco che gli hanno permesso di entrare nel mondo dei media appunto costituendo alcune immagini che sono immagini iconiche queste dunque le parole di Monsignor Viganò che ci riportano al contesto storico degli ultimi anni Andrea l'immagine più forte le immagini più forti di Papa Francesco Monsignor Viganò richiamava la Stazio Orbis del 27 marzo 2020 sì certamente c'era Stazio Orbis io ne aggiungerei due e sono l'apertura anticipata di una settimana del Giubileo della Misericordia fatto a Bangui capitale centrafica di quella chiesa di mattoni rossi del Papa che va in un posto dimenticato da tutti in guerra dove ci sono odio e violenza ad aprire lì il Giubileo e poi il Papa che appena sceso dalla Golf Car si ferma attonito di fronte alle macerie che si vedono che si vedevano durante la guerra in Iraq e dunque lì di fronte alle rovine anche lì è stato un momento di grande un'immagine secondo me che descrive il Pontificato il Pontificato è la parola chiave misericordia sicuramente la parola chiave sono misericordie e pace che sono legati anche al nome Francesco certamente la misericordia come dicevo anche prima viene giocata in chiave totalmente missionaria senti un altro tema ha diventato centrale nel Pontificato di Papa Francesco ultimamente i bambini in maniera più forte perché è stata indetta questa prima giornata mondiale dei bambini e delle bambine che si terrà a maggio a Roma insomma un altro tema nuovo ma relativamente nuovo perché il patto educativo era poi un discorso su cui lui ha sottolineato cioè quindi il patto tra le generazioni che include gli anziani da un lato e i bambini dall'altro è interessante notare come ha ricordato il Cardinale Tolentino de Mendoza che è il presidente del il prefetto del Dicastero per la cultura che questa storia della giornata dei bambini nasce da una richiesta che viene fatta al Papa durante un podcast dove il figlio di un giornalista di Radio Vaticano peraltro un collega dice Papa ma perché non pensi a una giornata speciale per noi e dunque c'è stato un primo anticipo che abbiamo visto nello scorso novembre e adesso questa grande giornata dei bambini credo che il Papa insiste tanto su bambini anziani perché ci dice che dobbiamo avere le nostre radici e conservare la memoria dei valori del passato che ci hanno portato a essere ciò che siamo e però al tempo stesso investire nelle nuove generazioni educare oggi c'è tanto bisogno di educazione di educazione alla pace di educazione alla fratellanza per evitare i linguaggi d'odio per vivere nel mondo dominato da queste nuove tecnologie senza cercando di non perdere la bussola dunque il Papa è un grande nonno che si rivolge direttamente ai bambini cosa ti aspetti da questa giornata cioè i temi sull'infanzia sono veramente tanti il Papa ha denunciato tante volte l'inverno demografico cioè le persone non fanno figli insomma le coppie sono tante le difficoltà insomma sono tante le questioni che potrebbero essere diciamo così evidenziate narrate affrontate sì io devo dire che più che le questioni e i temi mi aspetto che diventi una grande notizia è questo grande incontro e cioè del fatto di vedere così tanti bambini con il Papa in piazza San Pietro ma che ci dice l'importanza dei bambini e del ricordare i bambini che oggi soffrono le conseguenze della guerra della fame a Gaza della fame e della sete in tanti paesi dove se si spendessero meno soldi per le armi si potrebbero salvare tante vite umane e anche dei bambini che non vengono al mondo a causa dell'aborto ci stiamo avvicinando alla Pasqua vediamo anche tutti si chiedono ma come sta Papa Francesco guardando anche agli impegni tanti impegni in calendario il primo se vogliamo è la Pasqua periodo molto intenso per la Chiesa e anche per il Papa insomma sappiamo che Giovedì Santo andrà in carcere quindi laverà i piedi ai detenuti un'immagine se vogliamo già vista ma anche da parte di altri papi insomma che Pasqua sarà io credo che sarà una Pasqua certamente segnata da alcune difficoltà che il Papa ha di movimento ma che noi abbiamo già visto essere comunque superate il Papa comunque presiede le cerimonie in San Pietro vedremo se con la voce sarà in grado di leggere tutte le omelie comunque a me ha colpito molto oggi questo appello spontaneo dal cuore per la pace e lì è riuscito ad avere la voce ed è stata una grande testimonianza che secondo me oggi rende questa questa udienza già di per sé è bastato quel minuto diciamo per cui molto intenso molto intenso non è un problema di qualità non è un problema di qualità dell'audio del suono della voce e appunto speriamo che comunque il progressivo ristabilimento lo porti al fatto di poter di poter leggere le omelie ma se anche così non fosse oggi abbiamo avuto una testimonianza che cosa può essere anche la forza e le visite apostoliche in Italia già programmate sono diverse Venezia ad aprile Verona Maggio Trieste Luglio sì con motivazioni diverse un incontro la biennale incontro con il mondo della cultura il Papa comunque è anche il primate d'Italia e dunque poi è bello che vada nel Triveneto sostanzialmente tre volte nel giro di pochi mesi però bisogna ricordare che fino ad oggi in undici anni non c'era mai andato lo dici anche da Veneto lo dico anche con un pizzico di campanilismo e di soddisfazione che il Papa vada a Verona a Venezia e a Trieste e poi è atteso in Argentina si è parlato di questo viaggio in Asia ma insomma tutti aspettano questa data questo annuncio insomma cosa possiamo dire? Si aspetta lui ne ha parlato ancora non c'è niente di concreto o di annunciabile mentre invece il viaggio in Asia si prepara saranno comunque viaggi lunghi e oggettivamente impegnativi perché significa spostarsi dall'altra parte del mondo nello senso della parola prima da un lato fino all'estremo e poi dall'altro e comunque intanto si si prepara concretamente quello dell'Asia ma anche l'Argentina sappiamo che il Papa vuole andarci e certamente è un viaggio che è anche legato come sempre accade alle condizioni alle situazioni dei paesi e dunque sappiamo che ci possono essere circostanze che poi fanno rimandare anche eventualmente una decisione presa ma noi speriamo che ci vada perché dopo 11 anni credo che il desiderio degli argentini sono tanti che vengono a Roma ma il desiderio degli argentini di vedere il loro Papa che torna nella loro terra e anche credo il desiderio del Papa di rimettere in piedi una terra dove lui non usciva mai volentieri dunque credo che comunque una nostalgia di casa sotto sotto ce l'abbia sarà un viaggio emozionante quando avverrà insomma cosa ci si può aspettare dal Papa in Argentina che torna in Argentina diciamo la figura del Papa in Argentina è oggetto di grandi passioni anche di grandi passioni polemiche però io credo che un viaggio in Argentina sarà rappresentato da un grande movimento di folla e di grande un grande sentimento di accoglienza e di amicizia e di amore per questo Papa che torna dopo così tanti anni da dove era partito nel 2003 con la sua piccola valigia sì alla fine di febbraio del 2013 con la piccola valigia avendo già scritto l'Omelia per il Giovedì Santo è pronto a ritornare avendo già il biglietto chiuso per il ritorno e che invece si è fermato qui senti comunque i viaggi rappresentano sempre veramente dei punti focali anche del pontificato e quindi ecco bisogna viverli come dire con questa attenzione con questa intensità anche emotiva un po' tutti i viaggi sono così sì i viaggi sono incontri a me la cosa che più colpisce dei viaggi ci sono grandi gesti ne abbiamo ricordati prima alcuni che restano come icone ma più ancora dei gesti delle parole delle iniziative diplomatiche a me dei viaggi colpisce il vedere la gente cioè perché da quando io ho seguito ho cominciato a seguire i viaggi dei papi dalla fine degli anni 90 e dunque tante volte anche come giornalista a seguito stavo nel corteo dunque avevo la stessa visione che aveva il papa nei suoi occhi e per me la cosa più bella è vedere vedere le folle questa gente che non sono folle sono singole persone io tante volte viaggiando guardando gli occhi di persone nei posti più sperduti del mondo in Africa in Asia mi dicevo ma questa probabilmente sarà anzi sarà la prima e unica volta che io riesco a guardarti negli occhi eppure persone che erano lì con i loro figli le vedevi nella totale povertà ed essere lì che davano tutto per accogliere questa persona questo credo che il rapporto del papa con la gente della gente col papa sia la cosa più grande più bella e che giustifica i viaggi che sono dispendiosi sotto tanti punti di vista innanzitutto come impegno di preparazione e di fatica per lo stesso papa ebbene dunque restiamo sintonizzati con i prossimi impegni di papa Francesco e rinnoviamo gli auguri per l'undicesimo anniversario dell'elezione alla cattedra di Pietro grazie ad Andrea Tornielli per essere stato con noi grazie a voi alla squadra tecnica di Telepace Roma e a tutti voi di essere stati in nostra compagnia attraverso la radio la televisione e il web a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata il racconto del mercoledì in diretta dal Vaticano una produzione Telepace e Vatican News a cura di Eugenio Bonanata 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 di Eugenio Bonanata di Eugenio Bonanata a cura di Eugenio Bonanata